Gian, volevate la vittoria, volevate i 5 punti, sono arrivati? Sì, sono arrivati, purtroppo non abbiamo fatto il nostro massimo oggi, però questo è un buon segno, visto che non abbiamo giocato benissimo, siamo riusciti a portare i 5 punti in casa, quindi siamo sfodessfatti. Per quanto ti riguarda, buona prestazione, in mediana bene con Conte Baldi? Sì, sì, Tito ha fatto un'ottima partita, però siamo veramente soddisfatti con i primi 20 minuti dopo l'intervallo, abbiamo chiuso la partita perché la partita all'andata non è stata una buona prestazione, quindi siamo contenti, abbiamo una partita troppo importante la prossima settimana a Grenoble. Personalmente raccontami cosa hai pensato quando un unico, penso, tifoso fischiava durante la trasformazione? Quando ha fischiato i due calci sono entrati, quindi probabilmente è meglio che lui continui a fischiare. Hai citato la sconfitta di Agen, che potrebbe purtroppo costare cara. Sì, alla fine purtroppo abbiamo subito un paio di mette abbastanza facile, gli ultimi dieci minuti non sono stati ottimi, anche la meta prima dell'intervallo, ma loro hanno provato di giocare e hanno giocato dappertutto, quindi è stata una partita fisica, veloce, ripeto abbiamo portato i punti a casa, quindi siamo contenti. Con le cinque punti a Grenoble? Vedremo e speriamo, però siamo veramente in un periodo molto buono, con tantissima competizione su ogni ruolo, che è fondamentale per questa squadra, e chi scende in campo sappiano esattamente cosa devono fare. Grazie per la visione!